Vincenzo, questa sera ci presenta il capolavoro di Fabrizio De Andrè, la canzone di Marinella. Bene, allora buon ascolto e grazie. Vincenzo, questa è la storia vera che scelgo nel fiù a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella. Sola, senza ricordo e un dolore. Vivevi senza il sogno di un amore. Morri senza furono e senza scorta. E Stefania Fuoco nasce la voglia di portare a Ischia quella che era una grande possibilità, cioè quella di vedere scendere in campo, in campo sportivo stiamo parlando, una squadra che desse valore alla diversità umana, facendo sì che ognuno di noi, l'unicità, avesse quel grande valore e fosse valorizzata la diversità. Quindi in campo scendono maschi e femmine insieme, età diverse, abilità diverse. Scendono in campo anche giocatori che presentano una disabilità fisica cognitiva, però a noi piace non parlare della disabilità, di quello che non abbiamo, ma di che cosa possiamo fare, cosa abbiamo, cosa possiamo mettere in comunione con l'altro. Da cosa possiamo partire? Noi tu mettici il cuore sempre è il nostro slogan. Cioè abbiamo iniziato a mettere il cuore, la voglia, il sogno, l'idea, siamo scesi in campo senza grosse pretese. Poi tutto si è creato per il sogno di Antonia, no? Vi ascoltavo, io la storia la conosco perché l'ho condivisa negli anni, grazie ai miei cugini, grazie a tutti voi. E ho riscontrato qui tanti punti di contatto, no? quel mettersi insieme... Ognuno che...